Avanti! Permesso? Sì. Oddio! Sì. Ma io mi ricordo un attore qui, un attore, come si chiama un attore? Qualcuno dovrà pure respirarmi. E' una respiratoria perché mi è giù, una chiara. Avanti, di cosa hai bisogno? Sono Adamo. Lo so che ho creato io. Ma si può cambiare sto nome? Ma come nome? Ti ho dato la prima lettera dell'alfabeto A. A, Adamo. E se lo secondo è B, Damo. E il terzo C, Damo. Il terzo? Mi piacerebbe essere il terzo. C, Damo. Avanti, Adamo, sei anche in ritardo. Scusi, avevo l'orologio indietro. L'orologio non l'abbiamo ancora creato. Ma andamolo, già ci stanno. Ma, Adamo, di cosa hai bisogno? Sono venuto per lamentarmi. Ah, sì! Ma queste montagne enormi. Che significa? Ti puoi arrabbicare e avvicinarti fino alla sommità del crema. Ma è un mare! Ma è un mare salato! Cioè, avete dato dentro come con il salato? Il salato e il solce! Il mare salato! I cosa ha scoposto le cose? Gli alberi! Gli alberi, i prati, queste praterie immensi. Ma come creano per l'occhio umano? La terra è fredda! Ma c'è... Ma quant'è? La terra è fredda! Sì! Non li abbiamo ancora creati! Ma andamolo che già ci stanno! Sì, vai, un uomo! Gli alberi, ma... Signore! Sì! Sì! Capisce! Io capisco! Gli animali! Gli animali! Gli uccelli! Non ho passato l'antiparassità! Ma domani vorrei stare avanti agli animali! Gli uccelli si lamentano, credo! Si lamentano! Fanno... Gli uccelli si lamentano! Oh... Gli uccelli si lamentano! Si lamentano a giocciol.... No... No... Senta! Senta! Magashi... voglio una voglio una ciuccia ciuccia ma che c'è signore ma che c'è con questa ciuccia voglio una adamo 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 signore ammetto di aver sbagliato qualcosa è vero ho creato per ogni cosa una coppia ammette mentre per l'uomo non ho dato il suo eh capro uomo come una chispa non mi faccio un muro signore capite cosa voglio un divertimento un divertimento ma è una donna che ti faccia compagnia una bella bacchialella ma se stivate mi sta bene una donna si ma è un canino ma non sono di manassigio si però come possiamo fare prendete quello che volete non lo so cosa vi posso fare ma si certo ma certo ho creato in te tante cose ne prendo una cosa per creare ma no certo vado a raffare no grazie no hai due orecchie si no come ci fosse mezza estate mi chiamano mezza orecchie no ma no 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 due orecchie no io con due mi frego figuramici con un solo occhio due braccia due gambe meglio un braccio in più che serve per la mano balanza ma costruire balanza ma costruire scusami Adam si una costola no la costola mi fa impressione pigliate tutto quello che volete ma la costola mi fa tutto quello che volete ma la costola tutto quello che tutto pigliate la costola che è meglio pigliate la costola beh siamo d'accordo va bene io vi do una costola e voi mi date una bella pagina si dammi il tempo soltanto di realizzarla grazie 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 va bene Adam vai vai come mi faccia qua la tua non mi ricordi avanti va Adam vai e roma di Adam Adam o la Adam Adam e va Adam e va Adam e va Adam e va è questo veramente guarda oddio 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 si no ce l'ho no